Salute a tutti e ringraziabili per noi per la terza parte della nostra settimana Un Dior Non Logo. Oggi siamo in Fulelli e abbiamo parlato appena di La Lingua Gorsa con un progetto messo in ballo dalla collettività di Gorsica e Gaza e di La Lingua ci sono 8 in tutto in La Gorsica Zana e oggi siamo dunque a quella di Agastaniccia e abbiamo un appuntamento con quello che è incaricato di questa casa qui Stefano Poli andiamo a scontrarlo. Buonasera Stefano. Salute. Allora dunque, questa casa di La Lingua è aperta d'Ottobre, come si va a sapere qua? Allora, io sono aperta d'Ottobre, abbiamo un principale di nostri attelli allora abbiamo un attello un corso e gorsi per i principianti un corso e gorsi di Gerardo Becquelli per il livello mezzano e poi abbiamo un attello di Ganto, un attello, abbiamo attaccato l'attello di Ganto abbiamo attaccato l'attello di Boulivonia per i maggiori e per i Zideli ed in un attello di Ganto. Allora, quanto uso appena a gente per Awa? Allora, per Awa c'è una trentina di iscritti. Siete contenti di un numero? Allora, ci aspettiamo a un chifro così e siamo abbastanza contenti, bravo. Allora, se un concetto di immersione è importante per voi per una lingua? Sì, c'è importante. Se vogliamo sfruttare questi aduniti, esperti di lingua, scuole in festa e la DSEC per rispondere ad una progettazione dell'attività e pensiamo che questo ragazzo mi permette di imparare la lingua gorsa più importante. Come ho detto prima, abbiamo due livelli per i gorsi di lingua gorsa e in mezzo anni è che si sono già per la corsa quindi ben obiettoso ben imparato a scrivere o ben capire certi affari non capire e la tele, per esempio, di Boulivonia e tutto sono dietro e noi certi norme, certi si sono già per la corsa ben giusto ben cantare e l'istessa bello per il ganto, per il ganto, per il teatro. Allora, per ciò che tocca al finanziamento, come la si basa? Allora, la convenzione dell'attività di Gorsica che finanzia 70% del nostro progetto e il resto? e il resto del fondo di struttura Allora, ci sono un'attività di Gorsica e ci sono un'attività di Gorsica e ci sono un'attività di Gorsica andiamo bendito a nosza gasa a nosza gasa a nosza gasa a nosza gasa rigeola tutta dipatrive egg e poi Feli ci ha annoncato che il concetto era cambiato e che la Scuola Infesta era diventata casa dialingua. Il ci ha indicato che avremmo avuto il programma di tutti i corsi e di tutto ciò che sarebbe proposto nel caso di questo nuovo concetto. In un'accolta io rastudo tutto ognuno e benvenuto, benvenuto. Come l'oggi è d'un domani, come l'oggi è d'un domani, è mui sogno i dè, come di sole amane, come l'oggi è d'un domani, per esse, per esse va. E' un oigno i dei... Io ho dovuto avere esporto rispondendo a teorolo di Bologna con Gian Camilo Pasquale, e adesso sono accelati a Badi, ma non ha mai avuto... Non ho dovuto avere esporto in un corsi per aubrare veramente a Badi, quindi questo anno ho dovuto avere esporto e per l'oggi a casa e a lingua, e ho dovuto essere esporto a teorolo di be�sate della teorolo. Alla prossima. Per imparare una lingua è necessario questa immersione così? Per imparare questa lingua non si mora mai. Questo non possiamo nemmeno pensare né immaginare una sola seconda. E d'altronde fiamo tutti insieme, tutta la squadra, per tramandare il corso di stasera. C'è due e varulli, tre parulli, Magistana, Riroa, non adottita. Dunque, tramandare, 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 tramandare. Perché la lingua è cultura. La cultura è lingua. La lingua è vita della nostra vita. Ecco dunque per la casa di la lingua. Se Boboulade ha beneguiti tutta esera e partecipa alla tele, o brezzo è di 100 euro, 50 per esideli. Domenico, per la seguita di la nostra settimana, un giorno, un luogo, andremo a Coli Glementini.